Namaskar, oggi ti voglio parlare di qual è il progetto maggiore importante della tua vita. La gente mi ha detto che che vogliono essere imprenditori, che vogliono fare varie cose, o che sono empleati. Però, qual è di tutto il progetto più importante? Hace poco tempo in un ritiro me incontrò con un amico, con un signor, e tiene mia edad. E il signor è ricco, poi sta bene, tiene molta terra, propietà, empresas, poi varie cose. E partecipiamo a questo ritiro che è sul equilibrio. e, parlando durante il ritiro, mi ha detto che quando io devo iniziare a cuidare a me stesso, devo fare varie cose, o devo fare esporti, o che devo fare altre cose, che sono importanti per me, di cuidarmi, poi mi sento in colpa, perché, immaginate, mi sento in colpa, mi sento in colpa. Ora, uno arriva a una edad di 60 anni e si sente in colpa perché sta cuidandosi a si stesso, quindi io dico... E, stai sicuro? Dice, sì, poi... Sempre mi sento così, però, poi, sento che voglio migliorare. Però... Ora... ha avuto un problema fisico, un problema qui in colpa, e varie altre cose. Un tipo simpatico, un tipo, poi, allegre, però... ha avuto un problema con questo problema, e che si sentia male. Quindi, quale fuori la pregunta che io le hice, e che voglio trasmettere a te, perché ti può servire anche bene? Dico, contami una cosa, di tutti i progetti che tu hai, di tutte le terre che tu hai, di tutte le cose che tu hai, qual è di tutti i progetti più importanti? Quindi, lui mi ha detto, e dice, la terra di Agile... Dico, no, 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 no. Qual è il progetto più importante di tutto? Qual è il progetto che, saccando il suo progetto, tutti i progetti si collapsano? Quale sarebbe? Non si riesce a pensare. Non lo sarebbe. Ora... Qual è il progetto più importante? Dico, ottimismo. Perché se tu non stai già, tu dici come funzionano le tue imprese, e tutti i lavoratori, la terra, la finca, e tutto quello che tu hai, come funziona in te. Non esiste. Beh, ho detto. Existe per chi? Per gli altri, però per te, no. Tu sei la forza di tutti i progetti, tu sei la cosa più importante di tutto. Quindi, se tu sei listo a dare tempo e molto tempo, 12-14 ore diarmi in tutti i progetti, progetti externi, non stiamo parlando di ti, di progetti externi. E tu non guidi il progetto, ma è importante che eres timismo, ottimismo, che va a passare, che tutto il resto, se cae. Perché? Che ti interessa a ti di tutto questo se tu non esiste. Adesso, nel momento che l'occhio io, che dice, ui, e intonso, e intonso che? E intonso che? E ti senti a cuidarti a ti mismo. Che ti sto pidiendo? Nada ma, cuidati. E come ti guidi? fisico, mental e espiritual quindi vino qui al centro di yoga in questa casa dove sto in questo momento a fare alcuni esercizi di yoga in poche settemane no, in due settemane si alivio di questo problema qui che lo sta molestando desde molti anni e per fare cosa? dice, vai a fare questo esercizio con la columna già e che più? te cuida come te cuida? tu parte mental se tutto il tempo si è pensato al dinero che va a passare? tu mente come si vuole? si? e se tutto il tuo tempo lo dedica a cosa externa la parte interna che? al fine della quinta che ti lleva contigo si? entonces piensa sempre in eso tu progetto di vita mas importante eres tu questo non significa che tu devi essere egoista la persona non è egoista no che se tu non existe tutto questo non existe anche tu sei il centro del tuo universo non stiamo parlando ripeto di un ser egoista no però tu serve per fare qualcosa più importante all'acquera che sia per la tua famiglia per la società per a livello sociale a livello di aiutare con a persona che ne siquiera conosce il punto non è questo che tu devi mantenere un ser integro un ser completo a livello fisico mental e spiritual se tu descuida questo il tuo triangolo si desequilibra tu già non vas a stare bene quindi vai a tener problemi di salute vai a tener problemi mentali e non si non si vedano ti hanno problemi spirituali perché tua mente si vuole molto dura molto densa si? quindi quando ti vuole così queste idee non entrate le idee sutil non entrate e nel momento che te vas dove se quedano le dico che va a passare con tutte le tue con tutte le tue le dico no poi non siquiera la ropita che tiene encima te va a llevar non te la va a llevar se va a quedar qui e che sta dicendo ha hecho un truque di tutta la tua vita però una propietà che ne siquiera le puoi llevar ti pareci intelligente come negoziante eso? eso è un buon negocio per ti? dice no entonces perché sta dicendo eso? non è che tu non devi hacer negocio no però primero ti deve dar un tempo para ti non so se tu probabilmente lo puoi vedere in questo canal sto io che si ve con una jarra quali sono le priorità dici dici si sa che tiene razón sa che tiene razón claro che tengo razón il punto è che non lo pensiamo immaginate che si sentia in colpa per cuidarsi a si mismo ah entonces piensa en esto ora tu puoi tenere varios emprendimientos varios progetti varie cose di dinero di famiglia questo è il mondo externo te ho parlare adesso in otro video però che stiamo hablando primero qui da tuo progetto ma importante ti mismo a nivel fisico mental e spiritual hazlo e tu verás il cambio che va a tenere che è molto importante perché questo ti va dare la felicità o una felicità temporale la permanente lo hableremo in otro momento namasker a Grazie a tutti.